6 giugno a Modena, al MEF, abbiamo deciso di parlare anche di editoria digitale, fondamentalmente perché è cambiato il modo in cui ci informiamo, il modo in cui leggiamo, il modo in cui le informazioni vengono distribuite. Quindi se vuoi imparare come si fa a fare un ebook, un periodico digitale o semplicemente un catalogo interattivo, una brochure multimediale, ti aspettiamo, ci saranno tanti punti di riflessione.